Il sesto concorrente di questo pomeriggio è Zohr Ninatu, da Leningrado, in Russia, di anno 23. Eseguirà nel seguente ordine un cioccolto della seconda battiglia re minore di Paco. Dallo studio numero 18, qualezione, adagio, mosso, ritmico e marcato dalla tecnica superiore del verino maestro di Pita, e concerto il suo maggiore KB 216, primo movimento e in carenza di Oistrak, di Mozart, sarà accompagnato dal pianista Erbeni Sinajski. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.